Non si fermano gli attacchi aerei sulla striscia di Gaza. È la rappresaglia di Israele in risposta ai missili lanciati dall'enclave palestinese. I combattimenti continuano in 22 località nel sud del paese, mentre sale il numero delle vittime in entrambi gli schieramenti. Un raid israeliano ha distrutto un grattacielo nel centro di Gaza City. La Palestine Tower di 14 piani era la sede di uffici collegati a Damas e alla jihad islamica, ma ospitava anche decine di famiglie che hanno avuto 10 minuti di preavviso per evacuare. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il paese è in guerra e ha mobilitato i riservisti. Dall'opposizione Yair Lapid si è detto disposto a creare un governo di unità nazionale per affrontare l'emergenza. Tel Aviv ha anche annunciato il taglio della fornitura elettrica a Gaza, che dipende da Israele e dall'importazione di carburante per il suo approvvigionamento energetico. Con almeno 200 morti, più di 1.100 feriti e decine di ostaggi, l'attacco è il più grave degli ultimi decenni della storia di Israele, mentre i raid sulla striscia hanno ucciso almeno 232 palestinesi e ferito quasi 1.700 persone.